Musica Buonasera e benvenuti al TG Prato, l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana all'ora di pranzo, non ha risparmiato il pratese. I comuni Medicei, Poggio, Acaiano e Carmignano sono i più colpiti, soprattutto Comeana, la zona che porta alla stazione di Carmignano. La strada è rimasta chiusa per tutto il pomeriggio a causa degli alberi che sono caduti anche intorno alle macchine. Per miracolo nessuno si è fatto male. Servizio. Danni ingenti nei comuni Medicei a causa del violento nubifraggio che si è abbattuto su Prato e Provincia intorno all'ora di pranzo. La pioggia e la grandine hanno provocato allagamenti, soprattutto a Carmignano. A creare problemi maggiori è stata la caduta di alberi. Alcune piante si sono abbattute anche sulle auto in sosta. Un ramo ha colpito un furgone che stava transitando. Per fortuna il conducente non ha riportato conseguenze. Sul posto sono confluite le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate anche i volontari e la Polizia Municipale. Particolarmente colpite la zona vicina alla stazione di Carmignano, a Comeana. Via della stazione si è trasformata in un fiume di detriti e rami di alberi che ha spazzato via tutto, anche i cassonetti. La forza del vento ha sradicato e abbattuto decine di alberi, molti dei quali finiti sulla strada. Solo per miracolo non ci sono feriti. Il racconto di Cristiano Ballerini, proprietario di Villa Vittoria, che pochi secondi prima del nubifraggio era sulla strada in attesa della figlia piccola portata a casa dallo scuolabus. Praticamente si è visto un vortice enorme e quando si è visto questo vortice eravamo qui con la macchina e ci siamo veramente impressionati perché è stata una cosa allucinante. Ci siamo anche un po' riti. Ecco, lei era sulla strada perché? Perché aspettavo mia figlia con il pulmino che doveva arrivare da scuola praticamente. Possiamo parlare di tragedia sfiorata? Sì. La strada è completamente chiusa al traffico e anche i vigili del fuoco e i carabinieri hanno dovuto raggiungere a piedi le auto in via della stazione che erano state colpite dagli alberi caduti. La strada che collega Poggia alla Malva d'Artimino è stata chiusa così come la provinciale del Pinone che era stata ostruita da un albero caduto. Alle 17 sono state riaperte tutte le strade tranne via della stazione dove ben 300 metri di strada erano ancora coperti da rame e fogliame. I vigili del fuoco hanno ipotizzato che la situazione possa essere riportata alla normalità entro stasera. Un'altra pianta si è abbattuta su un traliccio dell'Enel provocando un blackout che interessa una buona metà delle utenze di Comeana. Sul posto sono intervenute le squadre Enel. Il forte vento, unito alla pioggia alla Grandina, ha provocato danni anche a Poggia a Caiano dove non sono stati risparmiati nemmeno i gazebo e gli stand dell'assedio alla villa che proprio ieri sera ha aperto i battenti e che stasera riuscirà a portare avanti il suo programma nonostante tutto. Un cinese ancora da identificare è stato ferito a colpi di arma da taglio in via dei palli. L'uomo è stato notato ieri sera da una connazionale che ha subito dato l'allarme facendo intervenire le ambulanze e la polizia. La testimonia ha raccontato ai poliziotti di aver visto il connazionale a terra sanguinante ma di non conoscerlo e di non sapere cosa possa essere accaduto. Il ferito invece non aveva con sé documenti di identità e non parlava italiano. L'ipotesi è che possa essere rimasto vittima di un tentativo di rapina poi degenerato. Palla grossa dall'arena alle aule di Tribunale. Guerra suon di carte bollate per via delle vicende legate al mancato pagamento dei fornitori dell'edizione dello scorso anno. Ha seguito per noi la vicenda Nadia Tarantino. Dall'arena di piazza Mercatale alle aule di Tribunale, finito il gioco e assegnato il palio della terza edizione, l'associazione Antico Gioco della Palla Grossa e la Club Eventi che ha stipulato i contratti con i fornitori convocano la stampa per fare chiarezza sui mancati pagamenti ad alcune delle aziende che hanno prestato i loro servizi per la seconda edizione, quella dell'anno scorso. Claudio Belgiorno, vicepresidente dell'associazione e Massimo Spinuso, amministratore della Club Eventi sono arrivati accompagnati dal loro avvocato Gianna Posillico e hanno dichiarato guerra con tanto di querele, pare sei, alle vicende degli ultimi giorni. Poi hanno spiegato perché alcuni fornitori non sono stati pagati. L'anno scorso è successo che l'evento non si doveva fare perché c'erano grossi problemi rilevati dalla Commissione Comunale Pubblico Spettacolo che ha esposto diverse denunce sugli organizzatori e anche su noi dell'associazione. Da lì è nata una serie di provvedimenti anche che hanno riguardato i fornitori e da lì è nato proprio, ci sarà un processo, vari processi che dichiareranno le responsabilità dei lavori dell'anno scorso. Però la cosa principale è questa, che la ditta che ha avuto i lavori l'anno scorso è in causa ora con questi fornitori.